Lei aspetta ancora il saldo? Francamente io di misure sono medio quindi bisogna vedere che cosa si trova però può avere anche un senso insomma ecco Aspetto i saldi prima di acquistare qualcosa E quindi che cosa vuole comprare in saldo? Una pellice ecologica e spero di trovarla qui a Treviso perché in Emilia Romagna sono ancora carissime È l'effetto migrazione per i saldi Ma al di là di questa signora per i negozianti del centro storico del capoluogo sarà difficile rifarsi di una magra stagione dicono No, per noi non è un momento di guadagno in quanto vendere merce piena sicuramente appena riassordita a notevoli sconti non è mai un grosso, non è mai un guadagno Con la gente di fatto già a caccia dello sconto da prima dell'ufficialità dei saldi Per cui sì, attenderemo insomma i primi giorni per fare qualche spesa a cui abbiamo rinunciato nei mesi precedenti Conferma che giunge anche dagli stessi commercianti per i quali, franchising a parte, i saldi non rappresenterebbero affatto un'opportunità La stagione è ancora piena dunque io onestamente lo vivo come uno sconto forzato In quanto la stagione ripeto è piena, abbiamo serie che sono ancora complete e onestamente fare il ridosso delle vacanze di Natale non va assolutamente bene Sembra quasi un prendere in giro la clientela che nel giro di due giorni, tre giorni, anche se è saputo perché ormai è di dominio pubblico, per me la cosa non va bene Grazie